Valorizza le tue competenze con i nostri corsi gratuiti a Parma. Studiare a Parma non è mai stato così facile e a costo zero. Ti presentiamo una vasta gamma di corsi, tutti riconosciuti dalla regione Emilia Romagna. Questa è la tua opportunità per crescere professionalmente. Cogli l'occasione. Ogni corso prevede uno stage curriculare in aziende di primo piano nel settore di riferimento. Un'esperienza preziosa per arricchire il tuo curriculum e acquisire competenze pratiche. Sei interessato al marketing, alla comunicazione o forse all'industria audiovisiva o musicale? Abbiamo il corso giusto per te, indipendentemente dalla tua passione. Segui i nostri corsi gratuiti a Parma. Ogni lezione è una possibilità per apprendere, fare domande e affinare le tue abilità. Il nostro obiettivo è fornirti i migliori strumenti per raggiungere il successo. Non perdere l'occasione di potenziare le tue competenze. I nostri corsi gratuiti a Parma ti offrono una formazione di alta qualità a zero costo. Clicca sul link o confila il form per saperne di più. Il tuo futuro professionale ti aspetta e noi siamo qui per aiutarti a costruirlo.